Ancora un autista della linea CTP aggredito a Taranto. L'ultimo episodio risale a sabato sera e si è registrato poco dopo le 23 nella borgata di Lama. Il conducente dell'autobus è stato malmenato da tre uomini ad una fermata della linea 16. Lo hanno colpito in pieno volto all'apertura delle porte del mezzo, mentre scendevano alcuni passeggeri, e poi sono fuggiti. L'aggressione è stata denunciata dalla FIT CISL, che sostiene di avere segnalato più volte alla direzione aziendale del Centro Trasporti Pubblici di Taranto i rischi delle corse serali. Urgono interventi immediati. I conducenti sono stanchi di aspettare possibili soluzioni, chiede il sindacato in una nota, nella quale racconta di episodi incredibili a bordo degli autobus, fumo di spinelli, risse, sedili sradicati e lanciati poi dai finestrini. Ed auspica la convocazione di un incontro urgente in prefettura che coinvolga CTP e AMAT, l'azienda per la mobilità urbana di Taranto, per delineare interventi mirati di contrasto a questi episodi di inciviltà. Se le direzioni aziendali non daranno seguito a quanto richiesto, conclude l'Affitto CISL, le riterremo direttamente responsabili di negligenza al verificarsi di altri episodi di violenza.